Ciao a tutti da Luca Viscardi, questa è la prova di ripresa video con il Motorola Razr, ci troviamo in condizione di pieno giorno, la luminosità non è comunque molto elevata, in basso essendoci tutto coperto di neve c'è comunque un notevole riverbero di luce. Possiamo osservare che in pochi attimi cambia la luminosità nella ripresa video, sullo schermo del Razr direi che la qualità di visualizzazione è molto buona, vedete che si adatta ad ogni tipo di situazione, nel momento in cui andiamo in una zona più scura tende ad aumentare la sensibilità e nel caso in cui si riprende ovviamente la neve bianca si va a scurire. È comunque direi molto valido, in questo momento è attivo lo stabilizzatore video, quindi la funzione che tende a stabilizzare, vista l'elevata risoluzione è stato introdotto in questo Motorola Razr anche questa funzione di stabilizzazione che sicuramente aiuta, ho verificato in varie condizioni ed effettivamente è molto buona. Ricordo, anche se lo saprete più o meno tutti, la capacità di registrazione in 1080p, quindi 1920x1080 pixel fino a 30 frame al secondo, quindi direi la risoluzione massima che al momento è possibile registrare da un dispositivo mobile di questo genere. Lo schermo è veramente positivo, nel senso che non ho trovato condizioni in cui sia difficile leggerci sia in ripresa sia anche nell'utilizzo tradizionale, quindi direi che è sicuramente uno dei punti di forza che si notano dopo l'utilizzo del dispositivo da anche da sole poche ore. Per quanto riguarda questo breve test è tutto, insieme nell'articolo sul nostro sito formobiles.info troverete anche un po' di foto realizzate in momenti diversi sia di giorno che di notte e quindi potrete apprezzare anche la capacità di fare foto e ricordo che in quel caso ho la risoluzione di 8 megapixel. Per questo video di test è tutto, un saluto da Luca Viscardi.